Proseguono quotidianamente i controlli sul rispetto delle misure anti-Covid-19. Durante la prima metà del 2021 e negli ultimi mesi del 2020, le attività svolte dalla Polizia Locale Pesarese sono state fortemente incentrate sull'osservanza delle restrizioni e di tutte le regole in vigore per limitare i contagi, come affermato dalla Comandante Francesca Muzzini. L'attività è stata molto intensa, abbiamo fatto controlli specifici sia sulle persone che sulle attività, sui pubblici esercizi e sui negozi in generale, ma in generale tutti i servizi anche di controllo di Polizia Stradale erano finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid, questo sempre. Più o meno in questi mesi, diciamo da ottobre fino ad oggi, i controlli sulle persone sono stati di circa 5.000 e così abbiamo controllato pubblici esercizi in un numero di circa 3.000, ovviamente alcuni più volte, quindi arriviamo a questo numero in questa maniera. Abbiamo rilevato diverse violazioni, ma tutto sommato su un numero di controlli così alti, onestamente direi che va bene, abbiamo circa una quarantina di violazioni importanti con una decina di situazioni in cui abbiamo proceduto con la chiusura immediata perché non c'era la possibilità di ripristino della situazione che potesse tornare all'interno delle norme previste. Con l'ingresso in zona bianca e con l'eliminazione del coprifuoco, anche nel Pesarese è tornato in primo piano il tema della Movida e dei controlli ad essa collegati. In quest'ottica la Polizia Locale ha predisposto un rafforzamento delle pattuglie destinato alle zone più calde della città. È molto importante precisare che noi sin da quest'inverno, insomma per tutti questi mesi stiamo proseguendo, rientriamo sempre nel dispositivo di ordine pubblico disposto dalla Questura in coordinamento con tutte le forze dell'ordine. Questo è fondamentale perché l'azione è congiunta e coerente. Per quanto ci riguarda in particolare abbiamo aggiunto una pattuglia il venerdì sera e il sabato sera con un orario che arriva fino alle 3 di notte in modo da sovrapporsi alla pattuglia notturna. Questo significa che nella fascia, che più o meno è quella del deflusso, dell'inizio del deflusso, fra l'una e mezza e le due e mezza, si sovrappongono due pattuglie e questo ci permette di avere una maggiore presenza nelle zone diciamo più calde. In questo momento, come tutti sanno, l'attenzione è maggiore sulla zona Viale Trieste e Viale Fiume. Però questo non esclude che potrebbe essere spostata in altre zone qualora la situazione cambiasse. Diversi, soprattutto nelle ultime settimane, sono stati gli incontri a cui anche la Polizia Locale ha partecipato con le diverse realtà lavorative che operano nell'area del lungomare, come per esempio albergatori, titolari di locali e gestori di stabilimenti balneari. Riunioni per conciliare le diverse richieste espresse dalle categorie anche sul fronte sicurezza. Come Polizia Locale abbiamo partecipato a questi incontri che si sono svolti perché è giusto e corretto ascoltare tutti, ascoltare esigenze, bisogni, preoccupazioni. Poi bisogna arrivare a un punto di equilibrio e noi è su questo che lavoriamo, cerchiamo di lavorare ogni giorno. L'aumento di personale è quello che ho appena detto. Abbiamo comunque aggiunto una pattuglia che sia sul territorio e che sia visibile in modo che anche per gli avventori, per chi partecipa a questa movida che ha assunto questo carattere negativo, ma in realtà nasce con il significato di movimento, di vivacità, divertimento. Però è giusto che a fianco a queste persone che giustamente si prendono i loro spazi ci siamo anche noi pronti ad intervenire in caso l'equilibrio si rompa. L'attenzione e l'attività di controllo delle misure anti-Covid rimane quindi ancora alta in vista anche del mese di agosto e delle ultime settimane estive in cui si prevede una maggior concentrazione di persone in città. Per il momento noi proseguiremo così in coerenza, adeguandoci di volta in volta alla situazione che ci auguriamo tutti non debba nuovamente peggiorare. Poi onestamente quello che ho imparato in questi mesi è che è giusto programmare, noi programmiamo sempre tutto, ma bisogna essere sempre pronti a modificare, ad adeguare alle nuove situazioni. Diciamo che ci vuole anche un po' di creatività. Il termine della stagione estiva segnerà per la comandante Muzzini anche la fine del primo anno di lavoro con l'incarico direttivo della Polizia Locale. Se penso all'inizio, mi sembra ieri, ma allo stesso tempo mi sembra che sia passato tantissimo tempo. Abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo affrontato tante situazioni, sia esterne che anche interne, perché comunque il Covid ha messo alla prova anche tutto il nostro personale. però sicuramente si è evidenziato un bello spirito di squadra e questo direi che è fondamentale. Il bilancio magari mi riservo di farlo un po' più avanti.